e venimo così a raccontar a fine della storia d'orfeo si ve ricordate orfeo ritorna sulla terra dall'inferi solo soletto e col core sfranto e ovviamente inizia a cantar dolore suo e vi è ucciso dai baccanti ossia donne sfrenate dedite al curto del passionale dioniso chi dice perché gli aveva sfrantumato l'orecchie con sto miagolio continuo del canto di amore perduto chi invece più credibilmente perché dopo aver perso il ridice sarà chiuso a riccio avea giurato ten una mamma in più e fasse frate che non se fa perché a vita va avanti e infatti vedi che il monno e a natura con tutte le catastrofi e monnezze che gli famo in perterito continua a vive e copula e figlia insomma e baccanti o fanno a pezzi ma niente a testa continua a cantar pare quasi un firme d'orore a o coi mostri che gli spari e ugualmente se riarseno e non te molleno oppure quei cantanti orendi che passano a miglior vita ma a casa discografica non se rassegna e continua a sfornar album postumi recoglitici e best off ma diciamo che per orfeo il simbolismo è di più alta fattura è come se l'arte potesse essere davvero immortale ma solo dopo la morte dopo il passo estremo che permette di entrare in un'altra dimensione che è uno dei motivi per cui trento sto blog trovi solo artisti defunti che solo a fine del percorso tu poi guarda indietro a tutta l'opera complessiva e di si è come sei leggenda Comunque qui c'hiamo due pittori simbolisti che ci fanno vedere sto finale Redon fa una roba visionaria quasi astratta quasi che sta testa è vista al microscopio in mezzo a foglie giganti e gocce d'acqua su un vetro Moreau gli è da un tono più classico malinconico con sta donna tutta seria che guarda triste a faccia di orfeo perché in effetti che gli vuoi di su argomenti di una certa serietà e nella vita arriva sempre il momento di essere seri eppure di sta zitti e medita Grazie